Ciao ragazzi oggi siamo su un nuovo gioco su H1Z1 che è un survival zombie dalla Sony Entertainment. Allora, qui stiamo a scegliere il nostro nome ovviamente se mi scrive ok volpe 4313 come solito aspettiamo il caricamento sono sul server roma se parte sarà anche bellissimo ok eccoci va allora prendiamo un pochettino quella T si fa ok allora quella è ma... ok questo per prendere i stichetti come ho scritto wood stick ok qua sono queste more black belt ok vediamo un pochettino more che sarà probabile per la nostra sopravvivenza per mangiare finché non si trova ovviamente ok e adesso torniamo qua vediamo il crafting questo ok questo è il crafting allora che ci faccio con le linee qua c'è la salute la stamina l'energia e l'acqua allora qui c'è la borse pantaloni che va a fare ok adesso la marla qua non possiamo buttarla via ok adesso mettiamo tutto questo cos'è vediamo cosa ci viene fuori le bende ok bastoncini altre more allora possiamo stracciare anche la maglietta ragazzi benissimo ce le portiamo qua se stanno perché facciamo troppi questi qua ancora no mangiamo come vedete come vedete uno di questi va due di fame no ok siamo andati adesso crafting abbiamo solamente le bende questo sarà per ah ci fa vedere ci fa scoprire le crafting oh l'arco benissimo questo qua ah le frecce ok e qua qua possiamo scraftare quel che abbiamo cercato ok facciamo prima il nostro bellissimo ok scraftiamo un po' le frecce ok ok eh porca puttana corri 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 caccia ce l'aveva con me sti cazze zombie speriamo andato un pochettino questo break bar va ok possiamo ricraftare il nostro freccio ah non possiamo più abbiamo già fatto la sesta freccia ok allora comunque mettere così ok badland ok pantaloni quello 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 ci prendiamo ancora un pochettino di sacchetti oh ecco la rotella in mezzo si può parlare qua dal giunto benissimo ok vediamo cosa possiamo con la feta ancora un po' che è questo qua 14 15 16 e 17 ok ok 1,53 0,100 ok per pantaloni bene allora da fare qua andiamo un pochetto ok 1,95 100% da bar ci prendiamo un pochettino un pochettino di amore adesso adesso è notte wow stupendo quanti uti? due minuti bene andiamo in qualche posto andremo faccio uno zombo quella tipa persona ok no 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 non no no come no non ho droppato niente vedo un minuto che tiro via un po' del volume che mi stanno assordando ok, ho caricato una freccia ci possiamo fare, ancora ci possiamo fare, si craftiamoci l'altra freccia ho sentito qualcuno adesso un cerbiatto è andato via lasciamolo andare, povero serbiato sento gente e non mi impressione sentito sentito come stanno anche attenti agli orsi e ai lupi andiamo a stagliare, vogliamo se c'è dove andiamo ok ci prendiamo la nostra bellissima e affidata ok penso che c'è qualcuno vicino vediamo che è un buon punto per i cecchini questo vediamo che va del suo affidata c'è anche tutta la nebbia porca puttana merda 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 lupo del cazzo, vieni qua, vieni qua, vieni qua vuole morire merda il lupo grazie grazie da me ando va siamo al 50% sì, 60 adesso va sta aumentando 65% ok merda del lupo comunque mettiamoci un altro puro questo una trentina ok con la cicciabassiamo ok, benissimo benissimo ragazzi benissimo non è droppato un cazzo? no vediamo che stiamo partendo sangue ok non è droppato un cazzo ok non è droppato un cazzo non è droppato un cazzo stronti dammi la freccia grazie oh, dammi la freccia dammi la freccia dammi la freccia dammi la freccia brutna zomba lo so non è droppato un cazzo non è droppato un cazzo vanmi la freccia o non è droppato un cazzo nie allora il cazzo non è bro non è il cazzo mangia Yand, yand, e nienta, beautiful, mangiamo un poco. Vabbè, ragazzotti miei, noi penso che, io penso almeno, eh, si sta a farmo la zombo. Siamo un po'. Camper Pass, ok. Dove piande v'è? Cranberri è da là. Vertrago stop. Ok. Vanno pure i lupi, che non penebaglia. Ho sentito un lupo avvicinarsi proprio. Mi sarevo sbagliato, forse. Se entriamo in questa casa, se non c'è nessuno... ...e ci sentiremo al prossimo play. Ok. Ok. Perchiamo tutte le porte. Andiamo su. Ci chiediamo a detto in bagno. Ok. Vabbè, ragazzi. Noi ci sentiamo al prossimo play. Ora slogo. E niente. Alla prossima, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. il polo stile